Sì, 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 sì Sì, 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 sì. Grazie a tutti E questo è meglio vestito, vero? Che è falsa, che è falsa, che è vero? Che è vero? E credo che tutti possiamo pensare, credo che non ci sono più chiaro. Chi è mi ha seguito di oggi, che volerà la prima vera e sarà lì come voi? Che già si ha traito il frio e che dopo avrà il calore. E che tutti noi riuniamo, sotto questo stesso sol. No passa nada, amico, poi abbiamo con una cosa molto importante che vi darà la soluzione. E concivo con ella, per medio di grigiosi pelati. Si, per medio di grigiosi pelati. Perché ora non vive qui al gado, sta in altri lugares, più cali e leggi. E la primavera, amica estacionale. E la primavera, amico. Hola! Soi, come veis, un ala estacionale. Il mio è un bell'officio di carattere relazione. Io regreso in qualche settimana. in su jalore sta buona grulla qui mi spero e a tutti gli altri del infierno di sfrutare io credo che ha quedato claro come del frio escapar con abrigo e alegria e algo fondamentale tener amigas e amigas che è lo che più calore da carabinzo grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.